Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo al bilancio consuntivo del 2016 tracciato dal reparto territoriale dei carabinieri di Gela. Si è lavorato su più fronti dal contrasto alla criminalità organizzata al fiorente spaccio di droga. Il comandante Antonio De Rosa ricorda anche il duplice infanticidio del dicembre scorso. Numerose operazioni di polizia giudiziaria nel 2016 che confermano l'impegno costante sul territorio gelese da parte dei carabinieri. Si è lavorato alla cremente per contrastare ogni forma di prevaricazione e gli obiettivi sono stati raggiunti anche se c'è tanto ancora da fare. Lo dice il comandante del reparto territoriale, il maggiore Antonio De Rosa. L'ufficiale si sofferma soprattutto sul fenomeno legato alla coltivazione e al successivo spaccio di droga. Sono state rinvenute numerose piantagioni, in tutta l'area i sequestri sono stati veramente ingenti. Questo da un lato dimostra l'attività, la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma dall'altro ci fa sempre stare più attenti perché il fenomeno venga contrastato e non si possa diffondere. Il maggiore De Rosa parla anche degli incendi dolosi in città. C'è stato un calo negli ultimi anni, quest'anno ci siamo attestati grossomodo su quelli dell'ultimo anno. È un fenomeno abbastanza annoso, è chiaro che è molto attenzionato da parte nostra e dalle altre forze di polizia perché è comunque un indice che fa tenere alta la tensione e che comunque sia può essere utilizzato anche per distogliere da altre attività. Stiamo focalizzando l'attenzione sul fenomeno per cercare di contrastarlo adeguatamente. Si lavora per il prossimo anno che è appena cominciato, quali sono i propositi? I propositi sono sempre assolutamente positivi, stiamo già lavorando per tutta una serie di attività che sono in tenere sia nel breve termine che nel lungo termine. Stiamo parlando sia di attività che riguardano la criminalità organizzata, sia attività che riguardano la parte patrimoniale, fino ad arrivare anche all'attività di contrasto spicciolo della criminalità comune, che è quella più percepita sul territorio. Ma lavoriamo anche tantissimo per quanto riguarda l'attività di prevenzione, sono in corso contatti con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado per un sempre maggiore contatto e per una nuova visione della figura delle forze dell'ordine e degli operatori sociali perché puntiamo molto su un fattore culturale in prospettiva futura. Ci sono già numerosi disoccupati, anche in merito alla chiusura dello stabilimento, non vorremmo che poi fossero appetibili da parte della criminalità? Il rischio quando c'è la disoccupazione, quando ci sono situazioni del genere c'è sempre. C'è da dire che a livello politico si sta lavorando per cercare di trovare una soluzione che è uno dei problemi più annosi. Per quanto riguarda noi abbiamo registrato più che altro una grande uscita di cittadini da Gela, quindi abbiamo visto anche a livello demografico una diminuzione legata al minor lavoro che c'è in zona. Per quanto riguarda la criminalità non abbiamo risultanze dirette, però è chiaro che il problema quando ci sono tanti disoccupati ci può stare. Maggiore, a livello umano cosa ne ha lasciato il duplice infanticidio della festività di Natale? Sono fatti in cui nessuno di noi vorrebbe mai partecipare, perché vedere due bimbe in quelle condizioni sono fatti che ti lasciano dei segni a livello umano. Sono tragedie che sono successe qua da noi, però sono tragedie che secondo me potevano accadere in qualsiasi parte d'Italia e direi del mondo. Quindi non focalizzerei l'attenzione da dire che è un fatto che è capitato a Gela perché Gela. È un fatto e una tragedia umana, al di là di tutto, che ha traumatizzato tutta la società civile e soprattutto di questa città. È una cosa in cui tutta la città si deve stringere a questa famiglia che ha subito questa tragedia per cercare di venirne fuori. E la polizia della locale commissariato che indaga sul doppio incendio che si è verificato ieri sera a Gela. Mani ignote hanno dato alle fiamme una baracca per la vendita di frutta e verdura in via Venezia. Intorno alle 21 si è verificato il primo rogo. Sette ore dopo gli incendiari sono nuovamente tornati in azione radendo al suolo la struttura in legno. Funzionari in arrivo e altri in partenza alla questura di Caltanissetta. A seguito degli avvigentamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quattro nuovi funzionari sono giunti lunedì 9 gennaio negli uffici della polizia. Si tratta di Teofilo Belviso, 56 anni, di origini salernitane, promosso a primo dirigente a maggio che dopo aver diretto l'ufficio immigrazione alla questura di Siracusa, ora si occuperà della guida della divisione polizia anticrimine, sostituendo così il vicequestore aggiunto Massimiliano Santoro, trasferito a Milano. A sostituire il commissario capo Laura Romano a Gela, trasferita a Catania, sarà il vicequestore aggiunto Domenico De Maio, 46 anni, proveniente dalla questura di Ragusa. Un ritorno per lui al commissariato di pubblica sicurezza della città del Golfo dopo 5 anni, dove era stato dal 2002 al 2012. In arrivo anche i commissari capo Nicolò Claudio Donato Cicero, di 31 anni, e Guglielmo Lamagna, di 37 anni, entrambi provenienti dal 105esimo corso per funzionari della Polizia di Stato, che dopo un breve periodo di tirocinio negli uffici della questura di Caltanissetta, saranno definitivamente assegnati dal questore Bruno Megale a specifici incarichi nel capoluogo in provincia. A lasciare alla questura anche i commissari capo Giuseppe Pitarresi, trasferito a Palermo, e Gabriella Giardina, trasferita a Roma. A prendere il posto dell'ex comandante della Polizia Stradale, Maria Grazia Milli, il vicequestore Marcello Arcidiacono. Cambiamo argomento, nessun parere positivo da parte dell'Ordine degli Avvocati di Gela. al nuovo regolamento adottato dall'amministrazione comunale. Lo ha ribadito in una nota il presidente Ignazio Emmolo, che anzi ha annunciato la volontà di impugnare il nuovo provvedimento, evidenziando diverse criticità, non specificando però quali. Alcuni giorni addietro, la Commissione Affari Generali e la Giunta Comunale hanno varato un regolamento che apre le porte anche ai patrocinatori legali, ovvero ai laureati in legge iscritti da almeno due anni nell'elenco. Gli Avvocati saranno scelti a sorteggio e a rotazione. L'elenco, dopo un avviso pubblico, sarà suddiviso in fasce. Aumenta il numero dei parti effettuati al reparto di ginecologia e ostetricia di Gela, nonostante ad oggi l'azienda sanitaria provinciale non abbia ancora attivato il secondo livello e non abbia nemmeno attivato l'utin. La denuncia è del portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese Filippo Franzone. E l'emblema si regge in una nota di una Gela coraggiosa che si ribella alla crisi e alla stessa Aspenissena. Genitori, nonostante tutto, fiduciosi verso il futuro a dispetto di un contesto economico-sociale tutt'altro che confortante e contro le manchevolezze che l'Aspenissena reitera nei confronti del nosocomio gelese. Sono in tutto 937 nuovi nati presso l'ospedale gelese, comprese peraltro le nascite di alcune partorienti provenienti da altri centi appartenenti ad altre ASP. Oltre 600 sono i nuovi nati di Gela, a dimostrazione che le mamme gelesi preferiscono dare alla luce i loro figli in città. I nuovi nati nei comuni di Gela, Nescemi, Mazzarino, Butera e Riesi sono 1149. Il decreto assessoriale del 2 dicembre 2011 sul riordino e razionalizzazione dei punti nascita prevedeva che presso l'ospedale di Gela fossero 1.454 i parti in un anno. Cosa impedisce il raggiungimento di questa cifra? A meno di negare l'evidenza, la risposta è sotto gli occhi di tutti, e cioè la totale disattenzione dell'Aspenissena e dei manager che si sono succeduti negli ultimi 5 anni, dice Franzone. L'Utin è rimasta la grande promessa mancata dei manager ASP da Virgilio a Iacono. L'ultimo annuncio prevedeva l'assegnazione dei lavori per giugno 2016. Oggi non se ne intravede nemmeno l'ombra. Mancano sempre soldi per Gela, nel contempo si continua ad investire nell'ospedale al centro dell'area più disabitata della Sicilia, quale appunto quella nisseno-ennese. Non passa mese in cui non iniziano nuovi lavori, nuove strutture, e dalla PET-TAC alla seconda UFA, spostamento di reparti per creare il polo oncologico a San Cataldo, parcheggi e tanto altro ancora, mentre a Gela si attendono ancora strutture individuate nel 2010. Ginecologia e ostetricia. L'attivazione di secondo livello impone all'ASP di adeguare strumentazione personale agli standard imposti dall'assessorato alla salute. Invece, ancora oggi, niente strumentazione, niente personale. L'attuale pianta organica del reparto conta un primario, 11 medici, 12 ostetrici, pari alla pianta organica del Santeria di Caltanissetta, che però è un centro di primo livello con un numero di nascite notevolmente inferiore, a cui si deve associare anche il personale del punto nascite di Mussomeri, mentre i punti nascita di Mazzalino e Niscemi vanno a chiudere. La previsione per il reparto gelese nel 2011 era di un primario, 17 medici, 18 ostetrici e 6 anestesisti. Ben 18 professionalità specialistiche in più. Una situazione in cui dispiace, rimarca Franzone, che le forze politiche gelesi, dal presidente della regione al trentesimo consigliere comunale, passando attraverso i deputati all'ARS, non si accorgano di come Gela venga sempre penalizzata in ambito ospedaliero. La responsabilità della gestione manageriale dell'Asperissena è evidente, ma non individuarne una complicità della stessa classe politica gelese, chiude Franzone, indifferente e latitante sulla questione, sarebbe come mettere la testa sotto la sabbia. Assemblea pre-congressuale della Federazione Nazionale Pensionati Cisla di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, si terrà domani alle 9.30 nella sala riunioni della parrocchia San Giacomo di Gela. All'ordine del giorno, la situazione politico-sindacale, la costituzione del coordinamento zonale dei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera, e l'elezione dei delegati al congresso territoriale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Ai lavori parteciperanno Salvatore Montalbano, segretario generale territoriale della Federazione, ed Alfio Giulio, segretario generale regionale. E adesso vi proponiamo un'intervista a Graziella Condello Città, referente AIRC a Gela, sugli obiettivi raggiunti nell'anno che si è appena concluso, chiesta la collaborazione dei giovani. Sentiamo. Graziella Condello, si chiude un anno a questo lato dei successi per l'AIRC, parliamo del 2016, ma è chiaro che i propositi per l'anno nuovo sono ancora importanti, perché voi lavorate sul territorio oramai da tanti anni, e i risultati finora sono stati conseguiti. Noi lavoriamo da oltre 25 anni, come ben sa. I risultati per il 2016, devo dire che nonostante le crisi economiche che attanagliano anche la nostra città, sono positive. Abbiamo raccolto fondi per circa 24.000 euro, compresa l'ultima raccolta dei cioccolatini, grazie ai club service che ci hanno dato una mano, a delle imprese, l'Ascot per esempio ci ha dato una grande mano d'aiuto, e anche ad associazioni come quello di Entimo e d'Antifemo, che organizzando questo evento al carcere ha fatto anche una raccolta fondi che è devoluta ai LAIRC, quindi in memoria abbiamo avuto pure circa 500 euro, e così abbiamo raccolto 24.021 euro. Questa è una grande soddisfazione, perché è vero che lavoriamo, però i risultati ci sono, la ricerca va avanti, Gela è fra le città anche che contribuisce in maniera, diciamo, congro, e quindi siamo contenti di questo risultato. Anche perché poi quando si parla di solidarietà, Gela è sempre prima fila? Sì, questo è senza dubbio ed è qualcosa che ci tocca particolarmente. Dicevo che nonostante la crisi, la gente è sempre sensibile alle manifestazioni di solidarietà, e quindi grazie alla città di Gela, grazie a tutte le socie, grazie alle mie amiche che anche loro si prodigano tanto per raccogliere fondi, perché sappiamo che l'AIRC con questi fondi sostiene la ricerca, ma soprattutto i ricercatori che hanno la loro continuità nel programmare una ricerca scientifica. Questo è importante. E alla fine del 2016, l'anno che ci ha appena lasciato, è arrivato per lei un bel regalo, un nuovo incarico. È arrivato personalmente a me perché rappresento la delegazione di Gela. Sono stata proposta dal presidente regionale al Consiglio nazionale come consigliera, quindi farò parte del Consiglio regionale della Sicilia, naturalmente. Questo è qualcosa che gratifica non me personalmente, ma tutta la delegazione. Quindi io voglio fare un appello ai giovani, voglio fare un appello alle signore di avvicinarsi all'AIRC, ai giovani, perché abbiamo bisogno di giovani nella nostra associazione. Ci sono dei crediti, soprattutto per chi vuole intraprendere questa carriera di medicina, e darci una mano d'aiuto. Non c'è tanto da lavorare, non c'è quota da pagare, però abbiamo bisogno di linfa giovani. Noi ormai i quarantenni siamo arrivati a 60 e oltre, perciò dobbiamo passare anche il testimone ai giovani. Venerdì 13 gennaio, appuntamento con la notte dei licei classici alle 17.30 all'Eschilo di Gela. È previsto un incontro con i genitori e gli alunni delle terze medie, e subito dopo ci saranno dei momenti musicali, teatrali e di intrattenimento a cura dei liceali. Dalle 21 a mezzanotte, musica da discoteca. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis, Protezione Civile di Gela. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si trarranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi dal 16 al 31 gennaio prossimi verso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana 23, oppure chiamando la segreteria allo 0933 938312. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Omini, mezzi, omini, ominiche e quacora qua è il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello e che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della biblioteca comunale in Via Butera a Gela. Relazionerà Biagio Pardo, alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Salinito e il sindaco Domenico Messinese. Una borsa di studio annuale intitolata Fernanda Bellomo, oncologa scomparsa all'età di 35 anni nel mese di dicembre 2016. Così l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta ha deciso di istituire questo premio in ricordo dell'oncologa originaria di Santa Caterina Villarmosa. Verranno assegnati dunque 1000 euro ai laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria fino a 35 anni, distintisi nel settore della ricerca di base o clinica e iscritti all'Ordine dei Medici Nisseno. Il candidato non potrà ricevere più di una volta la borsa di studio. Sarà possibile partecipare inviando entro le ore 17 del 25 febbraio 2017 tutta la documentazione necessaria, che verrà poi analizzata da una commissione giudicatrice formata dai membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta. Dare la notizia di una borsa di studio, comunque promuovere questa iniziativa alla memoria non è mai pienamente, non dà un pieno entusiasmo perché è chiaro che ha insita la scomparsa di una collega di una collega che era un esempio per tutti noi, per la nostra professione e soprattutto per noi giovani. Però, ecco, sulla base di questa tragica notizia la possibilità di rendere questo evento un esempio anche per tutti gli altri colleghi è quello di aver istituito un premio di ricerca intitolato alla sua memoria. Un premio che sia di... possa fungere da stimolo per aumentare la ricerca nell'ambito dei giovani, per ispirarsi all'esempio della dottoressa Bellomo e far sì che il suo contributo alla nostra professione non vada disperso. La dottoressa Bellomo era un oncologo che aveva 35 anni ha dato, diciamo, il suo contributo alla nostra professione ed è questo che non dovrebbe essere dimenticato. E ora parliamo di calcio, Gela Super nel campionato di Serie D i biancazzurri sono in piena zona playoff e domenica in Calabria a Sersale si tenterà il colpaccio. Vediamo. Anno nuovo, successo nuovo per il Gela meglio di così non poteva cominciare il 2017 per il club bianco-azzurro domenica scorsa al Presti la squadra di Pietro Infantino ha annichilito il Pomigliano i campani si presentavano forti dei loro 29 punti i gelesi li hanno battuti sonoramente 3-0 scavalcandoli in classifica e raggiungendo la zona playoff una dimostrazione di forza sotto tutti gli aspetti. La squadra ha fatto una grande partita tornavamo dalle feste il ritorno dalle feste è sempre un'incognita però i ragazzi hanno lavorato bene durante la tosta ci tenevamo tutti a vincere la partita perché i nostri tifosi lo merita, la società lo merita abbiamo lasciato qualche punto tra le muramiche quindi ci tenevamo a iniziare col piede giusto per proseguire questo nostro splendido campionato. Finalmente dopo due pareggi di seguito dopo raffine e compagni sono riusciti a vincere dinanzi al pubblico amico che il vento si è cambiato Anche altre partite in cui non siamo riusciti ad ottenere la vittoria la squadra ha fatto bene ha creato parecchie occasioni da gol Io direi che fin quando vedo la squadra così compatta e vogliosa c'è da stare tranquilli e chiaramente succederanno altre partite dove nonostante le buone prestazioni non si riuscirà a vincere non dovremo assolutamente creare problemi o caricare di particolari antie i ragazzi Noi sappiamo qual è il nostro percorso da fare cercheremo con tutte le nostre forze di impegnarci, onorare questa maglia e cercare di arrivare quanto più in alto possibile Domenica Nassi e compagni saranno di scena in Calabria contro il Sersale L'impegno, date la mano, non è ostico considerato che si giocherà contro l'ultima in classifica ma il calcio, lo ricordiamo, non è una scienza esatta dunque occhi aperti Andiamo a guardare le ultime cinque partite che il Sersale ha fatto in casa ne ha persa soltanto una e non meritatamente contro la Cavete quindi è un avversario che non è assolutamente invitarmo è un avversario che gioca su un campo in terra abbattuta e quindi ci sarà di bisogno di una prova a maiuscola e del miglior Gela per ottenere bottino pieno a Sersale Pur di fare musica si tratta del concerto di Paolo Belli che si trarà giovedì 12 gennaio alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela i bietti hanno un costo di 12 euro il botteghino è aperto ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92 e 345 58 80 580 continuano gli appuntamenti inseriti nell'ottantatresima stagione concertistica giorese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 15 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Vignatelli Roviano si trarà il concerto pianistico a quattro mani con Caloggio Lupo e Giuseppe Francolino la pagina del cinema è in proiezione alle 17.30 al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela il cartone animato Rock Dog alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie per aver guardato il video